Ciao 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 Buongiorno Buon pomeriggio Marco Anastasia Serena Francesco Rosario Mi chiamo Emma Margarita Napoli Vengo da Roma e vivo a Napoli Di Napoli diciamo Gioia di vita Uscino Si vive bene Il tunnel barbonico L'accoglienza Carnalità Comunicazione tra noi Girare e mangiare La pizza fritta Una spogliatella Ragù Cazzimma In che senso? No, non ho capito Di Parma E perché? Parma Parma al nord Ma io a Parma non la conosco proprio Eh no che Parma sia brutta Ma se ci sono dei valori perché no? Come mai? Il prosciutto Crudo Lì forse è un po' meno caotica Ad uno dei pressi Più piccola e meno caotica in Napoli Forse sono rimasto legato a Cannavaro Turam e Buffon Un allevatore pallone Direi anche io sono di Parma Sì Anche io sono di Parma 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 Grazie a tutti.